Martedì 26 agosto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione estiva di 105 TV. Come vedete davanti a me c'è un po' tutto l'occorrente che serve per allestire la sala cinematografica della tredicesima edizione del Villamare Film Festival che parte domani, mercoledì 27 agosto, per terminare sabato 30. Per cui il TG Estate come fa ormai da alcuni giorni darà ampio spazio a questa nuova edizione e vi parleremo in particolare del programma previsto per la serata inaugurale, quella appunto di domani. Ma non ci occuperemo solo del Villamare Film Festival, ci sarà una lunga parentesi, un'ampia parentesi dedicata a chi ama lo sport all'aria aperta, a chi ama il trekking e quindi ci occuperemo di un'interessante passeggiata che è stata organizzata sul territorio del Basso Salernitano, si tratta della passeggiata sui sentieri di Pisacane da Sapri a Sansa e poi andremo a proporvi una clip che fa una sintesi del lavoro che svolge il centrovisite Trentova-Tresino di Agropoli, un centrovisite che deve essere, e questo è il suo obiettivo, il punto di riferimento per chi vuole appunto praticare sport all'aria aperta, quindi trekking, equitazione, canoa e anche il tiro con l'arco e altre attività di cui ci occuperemo nel corso di questa puntata della TG Estate. Poi parleremo invece di un appuntamento enogastronomico in programma Sala Consilina, in particolare parleremo di un piatto speciale che sarà preproposto in occasione della manifestazione La Sagra delle Sagre che inizia domani 27 appunto in questa cittadina del Vallo di Diano. Ma iniziamo a camminare in questo spazio sul quale ormai camminiamo da due mesi circa con il TG Estate ma che da domani sarà interamente riservato al pubblico del Villamare Film Festival, lì l'ingresso e lì il palco che ospiterà gli ospiti di questa nuova edizione, ospiti sempre di prestigio e comunque a Villamare domani si parte, ogni sera dal 27 al 30 iniziano gli spettacoli con le proposte ovviamente del programma che è stato messo su per questa nuova edizione. E parliamo proprio del programma, iniziamo a vedere un po' quali sono, qual è la scaletta di questa tredicesima edizione, si parte come dicevamo il 27 agosto, alle 21 c'è l'inizio ufficiale della rassegna, si parte con la presentazione della giuria che quest'anno sarà presieduta da Ida Di Benedetto, notatrice italiana e ora produttrice. Dopo quest'incontro con Ida Di Benedetto ci sarà la proiezione del film Caravaggio che è una sua produzione interessante, film da non perdere, intorno alle 21 e 50 inizierà questo spettacolo cinematografico, alle 23 e 30 dopo cinema gastronomico serata la città dei cuochi, i cuochi amici del festival accompagnati dallo chef Nicola Di Nicuolo presenteranno la cucina bio mediterranea. Come vedete è un programma ricco per la serata inaugurale, passiamo alla seconda serata, quella del 28 agosto, alle 21 inizia la proiezione dei corti in gara perché ricordiamo che i cortometraggi semifinalisti sono 12 e sono stati scelti tra i 200 che sono stati candidati per questa rassegna, o le prime tre sere verranno proposti quattro di questi 12 e poi la serata conclusiva verranno proiettati i finalisti. Dunque il 28 si inizia con la proiezione dei corti in gara, alle 21 e 50 ci sarà l'incontro con Federico Moccia e subito dopo la proiezione del suo film a universitari molto più che amici. Alle 23 e 30 un altro dopo cinema gastronomico, la Country House, il vecchio frantoio di Stella Cilento, vincitrice dell'edizione 2014 del festival gastronomico, presenterà al pubblico del festival il pensiero di Cicerone, quindi un piatto tutto da scoprire. E poi andiamo alla serata del 29 agosto alle 21 e si inizia sempre alle 21 come dicevamo con la proiezione degli ultimi quattro corti in gara e alle 21 e 50 c'è un momento che è stato intitolato Una storia del sud del Cilento. Verrà proiettato fuori concorso il corto Il silenzio di Lorenzo, di Nicola Acunzo. Ci seguirà il commento di Antonio Esposito, presidente di sezione della corte di Cassazione e del giornalista Gaetano Bellotta. Alle 22 e 30 incontro musicale con la musica da cinema che proporrà il maestro Paolo Vivaldi. E alle 24 il dopo cinema gastronomico, questa volta curato dal ristorante Il castello di Teggiano che presenterà i filati della principessa. E andiamo alla serata conclusiva del festival, quella di sabato 30 agosto. Alle 21 si inizia con un momento musicale curato dai Cilento Brass Quintet. Alle 21 e 15 la proiezione dei corti finalisti e per cui si vedrà quali sono i finalisti scelti dalla giuria tecnica e della giuria popolare. Alle 22 incontro con il noto attore comico Andrea Roncato e alle 22 e 15 ci sarà la proclamazione dei vincitori del Villamare Film Festival 2014 con la premiazione ovviamente dei vincitori. Alle 22 e 30 un altro importante incontro cinematografico, questa volta con l'attore Michele Placido. Alle 23 e 30 dopo cinema gastronomico che come avviene da anni sarà curato perché l'ultima serata dalla gelateria di Enzo Crivella che presenta il gelato, il suo gelato e lo proporrà al pubblico del festival. Alle 23 e 30 c'è una novità quest'anno, cinema da sballo con il DJ Teus. Sostanzialmente il nostro amico Teus cosa proporrà? Questo grande DJ cilentano, musica da film in maniera mixata con lo sfondo, anche le immagini del film a cui fa riferimento la musica e poi lo spettacolo di fuochi pirotecnici che da sempre chiude la rassegna che da 13 anni organizza 105 TV in collaborazione con il comune di Vibonati. Dunque nella serata di apertura, quella del 27, cosa accadrà? La protagonista Sara Ida Di Benedetto sarà proprio lei, la presidente della giuria sarà proprio Ida Di Benedetto. La prima serata del festival infatti punta a mettere in evidenza l'aspirazione ai mercati internazionali delle produzioni cinematografiche italiane. La Di Benedetto, nota attrice, divenuta ora produttrice, racconterà l'esperienza della riproduzione cinematografica di Caravaggio, la serie TV di grande successo diretta da Angela Longoni. Una trasposizione che ha permesso di esportare all'estero nelle sale cinematografiche la storia vincente del pittore Michelangelo Merisi. E dopo ovviamente come abbiamo detto l'incontro con Di Benedetto ci sarà proprio la proiezione di questo suo film Caravaggio che so che è molto atteso dal pubblico del festival. Quindi vi aspettiamo noi di 105 TV domani mercoledì 27 agosto nella piazzetta di Villa Mare per dare inizio insieme a voi al Villa Mare Film Festival. Ricordo che l'ingresso è gratuito, i posti a sedere sono gratuiti, chi però si vuole assicurare un posto nella sala può acquistare le apposite tessere presso la boutique Martorelli e Emozioni, due negozi, due attività commerciali amiche del festival che si trovano a Villa Mare. L'appuntamento è per le 21 per tutte e quattro le serate. E ora andiamo a Sala Consilina dove il 27 invece inizia la Sagra delle Sagre, una manifestazione enogastronomica che andrà avanti fino al 31 agosto. Si proporrà un po' il riassunto di tutte le sagre che animano da tempo il Vallo di Diano. Nell'occasione un'azienda agricola del posto Elicla proporrà un piatto speciale, probabilmente poco assaporato da noi. Si tratta di un primo piatto a base di chiocciole, noi le chiamiamo lumache, ma tecnicamente come mi spiegava la responsabile dell'azienda Claudia Cantile si chiamano chiocciole. Esattamente, con il termine chiocciola si indica questo tipo di mollusco con il guscio bordato, così come si può vedere anche da qualche esempio che ho portato qui come una novità per la Sagra delle Sagre di domani. Come le proporrete queste chiocciole, poverine? Ciao ciao, addio, è stato un piacere conoscerle. Però fanno parte della catena alimentare, le proporremo con un primo piatto, un delizioso primo piatto e vi invito di fatti a venire, ad assaporarlo. Saranno delle trofie condite con sugo di chiocciole, magistralmente preparate da un cuoco. Avrete modo così di apprezzarne la morbidezza, la tenerezza anche delle carni stesse e qualora possano essere di vostro gradimento, perché no, anche visitare quella che è la nostra azienda che sorge proprio a Sala Consilina. È un'azienda agricola che lavora su circa 6.000 metri quadri di terreno all'aperto, qui come potete vedere qualche immagine, e nella quale sono state distribuite più di 650.000 chiocciole, che in questo momento stanno riproducendosi, mentre quelle che saranno destinate alla Sagra sono state appunto macellate in questi due giorni, proprio per poterle offrire a chi vorrà venirci a visitare. È un'azienda nata nel 2012, da pochissimo tempo, e perché avete deciso di dedicarvi a questo tipo di allenamento? Dunque, io sono un insegnante, un insegnante di scienze degli alimenti, per cui individuare qualche proposta, qualche piatto, qualche alimento più che altro particolare, e nello stesso tempo ritagliarci anche quella che può essere un'integrazione di reddito, è stato il motivo principale di questa avventura, la chiamo così. È nato con un impianto pilota, di piccole dimensioni, e nel corso appunto di questi due anni è cresciuto notevolmente, ed è volto tanto alla produzione della carne di chiocciola, quanto anche alla produzione della bava, un sottoprodotto che recupero e che conferisco ad un'azienda cosmetica per confezionare tanto delle creme antilughe, quanto degli sciroppi per la tosa. Quindi con la bava di questi molluschi si possono fare anche prodotti cosmetici e anche integratori? Anche integratori alimentari, sciroppi appunto per la tosse vengono classificati in tal modo, destinati soprattutto ad una popolazione, quella dei bambini, appunto particolarmente delicata, ed è una, all'interno di questo muco appunto, che quasi potrebbe non ridire insomma, a solo pensiero, sono contenuti di fatto una serie di proprietà di muco polisaccaridi, di acido glicoico e all'antoina, che stimolano il turnover delle nostre cellule, il ricambio cellulare e quindi la rigenerazione dei nostri tessuti. Ecco perché il duplice impiego. Per cui anche mangiarli fa bene, anche almeno per metterci a posto la coscienza, dico almeno utilizziamo per noi egoisticamente. Assolutamente sì, dal punto di vista nutrizionale la carne di chiocciola è assolutamente leggera, ha un contenuto in grassi molto molto ridotto se lo paragoniamo, anche alla stessa soglia, insomma un alimento notoriamente conosciuto, indicato nelle diete a basso contenuto calorico, ma soprattutto è interessante per il profilo aminoacidico, quindi per la ricchezza in aminoacidi, soprattutto quelli essenziali. Quindi un prodotto, un mollusco, tutto da scoprire, ecco da valorizzare sempre di più. Il mercato lo richiede? Il mercato lo richiede, sì, si avvicina appunto a un po' a volte anche di curiosità e anche a volte con un po' di librezzo, insomma fa un po' senso vederlo così muoversi, ecco in maniera... Nonostante il sole ancora si muove. Sì, sopravvivono, sono abbastanza rustiche, resistenti, per cui sì, c'è un interesse, c'è un interesse sia per il mercato del prodotto fresco, quindi spurgato, che per quello trasformato. Su questo ci stiamo, insomma, in qualche modo preparandoci in vista del prossimo anno, quindi creando un laboratorio volto più che altro alla trasformazione alimentare del prodotto. Ecco, la vostra azienda a chi si rivolge? La vostra azienda si rivolge tanto al singolo quanto ai ristoranti, quindi alla ristorazione collettiva, ecco, ma punta più che altro all'estero e soprattutto ritagliandosi nello stesso tempo anche una fetta per quello che è il mercato locale, perché si è soliti appunto sentire anche qualche familiare appunto vicino che va alla ricerca di chiocciere immediatamente dopo una giornata di piogge, ma nello stesso tempo c'è pure questa scarsa conoscenza del prodotto stesso, soprattutto per quanto riguarda la sua preparazione gastronomica e quindi anche quelle che sono le sue caratteristiche nutrizionali, per cui ci rivolgiamo, insomma, un po' a tutti, ecco. Allora, in questo caso possiamo dire che la Sagra delle Sagre dal 27 al 31 a Sala Consilina diventa l'occasione per conoscere meglio questi molluschi e andargli a vedere dal vivo presso l'azienda agricola LICLA che si trova a Trinità di Sala Consilina, dove tra l'altro si svolge la manifestazione perché ha luogo questa manifestazione presso la villa comunale di Sala Consilina. Certo, e vi aspettiamo perciò numerosi, noi ce la metteremo tutta.